Tranquillo, vai verso lì e girati. Girati verso di me, così ferma. Ora, ora, fa girare come una trottola. Ti sto riprendendo col mare vicino, 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 buono, 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 buono. Con l'onda, con l'onda, con l'onda. Ora si riprende un po' lo sfondo dei tre ponti, alla barba di Berlusca. Puoi uscire uno a Livorno che lo possa partire di vedere. C'è anche incacchiature la gente. Prima si vuole controllare di che parte sei. Sorriso, sorrisino, vai. Vieni qui da me, te la do a te. Vieni qui, vieni di qua. Ora mi ci metto io, così. Basta che tu mi riprenda, vedi? Vedi, vedi. Vedi? Vedi bene? Sì. Vedi? Vedi come stai? Eh? Vedi? 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 A vicino, a vicino, ci siamo? Sì. Basta, vedi?